aiuto aiutatemi sono qua sono qua qualcuno mi venga ad aiutare questo bambino poliziotto mai prigionato vi prego vi prego venite ragazzi venite non uscirai mai da qui dentro a pollo no no vi prego basta ma io ero già finito in una prigione del genere ero finito nella prigione di suo padre e adesso il figlio di quel poliziotto mi ha arrestato cioè guardate nella sua prigione dei giocattoli guardate guardate questo qui guardate no non voglio diventare questo bambino non voglio diventare devo fare un bisognino prima potete girarvi per favore potete potete va beh va beh iniziamo io spero che abbiate già lasciato un incredibile mi piace oggi ragazzi perché dovrò assolutamente evadere dalla prigione dei bambini proprio così sul roblox quindi forza allora vediamo ci sono anche delle frecce ma è fatta apposta per i bimbi ok quindi passiamo da questa parte poi spacchiamo questo coso ok ok continua a colpire che cosa salve signorina anche lei è finita nella prigione dei bambini ti puoi spostare a mia mamma delle mamme ma sono finito nelle ventole ottimo se addirittura si può diventare una guardia ragazzi guardate sia piccola che grande anche lo chef cattivo non ci posso credere magari potremmo giocarci eh nel prossimo video ok cerchiamo di scappare vogliono che io diventi come loro ma non diventerò mai una guardia cattiva proprio no ragazzi ragazzi aiuto dovete togliervi forse va tempo sto cosa forse va tempo ok ci siamo io spero di non incontrare quel bambino pestifero dov'è ok qua c'è una soda ma costa tutto in questo modo c'è il bambino aiuto c'è il bambino raga ragazzi è lì guardate quanto è piccolino non mi prenderai mai ciccio pasticcio arrivederci me ne vado guardate è imprisonato tutti gli altri poliziotti è cattivissimo anche lo chef con la padella è proprio cattivo questo bimbo poliziotto è meglio passare da questa parte ragazzi 1 2 ok e scusi signorina dovrei passare no 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 poliziotto bimbo poliziotto bimbo fantastico mi ha arrestato un'altra volta se la devo fare ragazzi se non è possibile che un bimbo poliziotto riesca a catturarmi cioè io non accetto di essere catturato da questo bimbo se guardate che pancia ma quanta nutella mangi al giorno bimbo poliziotto pensa più ad arrestare i ladri invece di mangiare ok da questa parte quindi lì c'è una barriera invisibile questi poliziotti sono anche furbi e guardatele là sotto mi ha perso di vista mi ha perso completamente di vista dai spingi spingi qua no no devo attivare il pulsante non ci posso credere ma perché sono così nabbo no 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 poliziotto bimbo poliziotto bimbo poliziotto bimbo no 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 poliziotto bimbo poliziotto bimbo non mi prenderai non mi prenderai ok abbiamo aperto questa botola andiamo su di sotto ok salve sono nei bagni ragazzi sono nei bagni ok vediamo qua si può entrare no c'è nessuno e di qua che c'è che schifo che puzza che fa sto capire che puzza ragazzi diamo qua sotto va che meglio siamo nelle fogne nelle fogne puzzolenti guardate quanta pipì incandescente c'è queste pipì radiattiva ragazzi guardate oh mamma mia questa che è mamma mia unisciti al nostro gruppo no non mi unirò mai per sbloccare questa cosa mamma mia se guardate la pipì è fluo ragazzi ma cosa mangia cosa beve la monster beve se io non ho parole no no aiuto stico sti cosi ok aiuto aiuto ok attenzione che si rompono no non ci posso credere la pipì mi ha sciolto ragazzi la pipì mi ha sciolto non ci posso credere via 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 subito via subito mamma mia ma dobbiamo proprio entrare in questo teschio che è stato sto rumore avete sentito avete sentito che sono questi suoni sono inquietantissimi oh no 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 calmi bimbo stai attento per ok da questa parte una palla gigante vuole schiacciarmi cavolazzo sentite che suoni inquietanti ok adesso via 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 corri 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 via 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 corri 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 ah che è stato che è stato questa prigione fa veramente paura saliamo sopra la scala saliamo sopra questa scala ok forse che è sto coso aiuto bimbo no 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 bimbo cattivo bimbo cattivo no bimbo bimbo dove devo andare devo andare proprio lì dove sei lui ma corre velocissimo ok 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 devo cliccare qua ok uno ce l'ho ce l'ho non prendermi non prendermi non prendermi adesso ho aperto qualcosa di qua ok ci siamo mi sta inseguendo ci sono delle persone imprisionate là dentro ok ce l'ho fatta non può seguirmi qua sopra eh non può seguirmi ragazzi ok vai continua così bella faccia continua così continua così continua così così ok ci siamo ci siamo ci siamo da questa parte non voglio scioppare sto coso basta non voglio eeeh cosa sono sti suoni inquietanti da questa parte saliamo di sopra vai stiamo salendo la libertà è vicina sicuramente sono uscito perché sono fuori da niente caffetteria o formazione sulla sicurezza beh io in caffetteria vorrei andare è chiuso fantastico mi tocca andare proprio qua un distributore di di pepsi si così mi piace correre super veloce perché voglio andarmene assolutamente da questa prigione dei bambini via 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 è assurdo è assurdo che ogni volta finiscono in una prigione strana ok ci siamo quasi raga ci siamo quasi ragazzi vai un altro piccolo salto un altro piccolo salto no di là dove do non ci posso credere no devo ricominciare da capo non ci credo mi ha trollato mi ha trollato mi ha trollato ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo di qua e quello che è root oh scusate scusate mi scappava mi scappava ok andiamo su continuiamo ad andare su salve amico sono qui le sambelle brena certo fame oh mamma mia no non scapperai aiuto via 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 da questa parte da questa parte c'è la scala via ragazzi via 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 di qua via di qua fammi andare via come faccio ad andare quassù c'è un'altra scala ma non riesco a salire sono nano perché sono nato così basso si ci sono ci sono sono nei condotti dell'aria sono nei condotti eh vabbè ragazzi ma si va qua eh vabbè cos'è squid game ma dove sono finito aiuto c'è questa ventola gigante non mi fermerai mi fa fare anche palestra questo bambino così mi tengo in forma sapete com'è perché la mia pancia sta crescendo guardate ho mangiato un sacco di pizza ultimamente eh devo rimettermi in forma da questa parte devo riuscire a scappare ragazzi uno ok con calma sopra i tubi sopra i tubi si ok comunque questo bambino mi ha incastrato perché mi aveva chiesto vieni a giocare a nascondino con me e alla fine mi ha dato una botta in testa e sono no 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 e sono finito qua dentro se è possibile chiudi le valvole ok devo chiudere le valvole quindi prima valvola prima valvola ok dove sono le altre sono la sotto ce n'è una qua seconda valvola ok e la terza devo tornare è la è la 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 valvola la 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 ok dai bella faccia così gira quella leva ottimo da questa parte saliamo di sopra ci siamo quasi ragazzi me lo sento a breve riusciremo secondo me ad evadere da questa laaaah fantastico eh fantastico riusciamo ad evadere da nessuna parte perché se continuo a cascare di sotto è finita la 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 c'è la libertà la 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 muoviti 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 e non cantare muoviti e non cantare da questa parte sì mamma mia se se nasceva un po più alto magari facevo meno fatica ok si ci siamo ci siamo Forse se l'abbiamo fatta ragazzi Forse siamo fuori No, non siamo fuori da nessuna parte Forza Mega salto Oh, è troppo divertente però Questa prigione dei bambini Stiamo per cascare Ci sono, ci sono quasi Devo resistere Ci sono quasi, ci sono quasi, ci sono quasi, sì Su per le scale Dai bella faccia, ma perché, ma perché Ma perché devi finire in questi posti Ogni volta una ventola gigante Salta Ok, qua dentro Mamma mia, è troppo divertente Ok, sono nei condotti dell'aria E adesso, caffetteria? No, no, tutto ma non questo chef Tutto ma non il baby chef Bambino Gary lo chef Aiuto, aiuto, come... Bazooka, cibo bazooka Cibo bazooka, aiuto, aiuto, aiuto Non voglio mangiare le verdure cotte Le verdure al vapore, non mi piacciono Che schifo, guardate che roba Cos'è catrame Ok, ci sono, ci sono, ci sono Guardate, sono qui Dov'è? Dov'è andato? Bimbo, bimbo pastizzo Bimbo, eccolo È lì dietro Beccati questo Beccati questo Beccati quest'altro Salsa barbecue Eh, salsa Eh, alla bolognese Sto lanciando il cibo ragazzi Il cibo non si spreca però Chef, guarda che mi fai fare Beccati questo Etchia No, 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 no Mi prende Mi prende Ah Maledetto Gary lo chef Maledetto Dov'è? Dove sei? È lì Eccolo Sì L'ho disintegrato Col mio super bazooka cibo Grandissimo Grandissimo Bella pancia Ma scusate Ma quanti Che schifo Ma che è sta roba Fagioli ammuffiti Vomito di capra Cacca di capra Questo, questo che è? Non lo so Non voglio saperlo Sabbia Da mangiare la sabbia Benissimo Forza La libertà La libertà Tattattattattattattattata Iuff Iuj Veloce 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 Dove sono finito? Aiuto Volo Volo Da questa parte ragazzi Ma È gigante sta prisione È veramente Grandissima Però Io ci spero Esci 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 Di qua L'uscita Wuhuu No I laser I laser Devo stare attento Ai laser Non ci provate laser Ok Così va bene bella faccia L'istinto da pollo No Non ci posso credere Ragazzi mi ha preso il laser Non ci posso credere Ok muoviti Veloce Mi raccomando stai attento Così Ok attento al verde Perché è quello che t'ha preso prima Ottimo Il giallo banano Giallo banano ci siamo Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta ragazzi forse ci siamo Forse ci siamo Adesso l'uscita L'uscita è vicina Guardate quante trappole che ha messo questo baby Ah Berry baby match Ma beccati questo Beccati le verdure le mele le cipolle Le melanzane mamma mia è gigante E Berry è tutta colpa sua Non verrò più a giocare a nascondino con te Berry Non verrò più È inutile che ridi Che ti ridi Ma mangia le verdure Che nonna ti vede sciupato Devi mangiare Devi mangiare Mangia 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 Berry Mangia Yes Distrutto Arrivederci Me ne vado con la SWAT Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta ragazzi Ho vinto Ho vinto Si Abbiamo vinto Ragazzi siamo riusciti ad evadere dalla prigione Non si posso creare Era tutto una finta Da me tutte ci vediamo presto in un nuovo fantastico video Tenete Tenete il cibo finchè potete Ho